Grazie, spero... diciamo era una cosa un po' difficile mischiare tanti generi di musica, tante persone, però volevo proprio farla, speriamo che... Hai regalato e ci stai regalando lo spettacolo meraviglioso e vi arresto il pubblico. Grazie, veramente Andrea, è stata una serata magica che ancora continua con tante belle cose. Andrea, allora, noi vorremmo parlare un po' del web, giusto? Ah sì, è vero, è quel momento, sì. È quel momento, sì. È quel momento. È quel momento, un momento importante, particolare, perché Andrea ha fatto, ha prodotto, ha fatto un video bellissimo con un musicista di origini indonesiane, se non si parla. Proprio indonesiano, proprio indonesiano, alibata, e praticamente questo video ha ottenuto una... ma tantissime visualizzazioni, proprio perché tu hai fatto una scelta precisa. Beh, diciamo che non... devo dire, adesso la racconto bene perché... perché è giusto, perché bisogna capire un po' il personaggio. Innanzitutto questo artista me l'ha fatto conoscere un mio amico che è anche presente in sale e mi ha fatto questo enorme piacere, Gianni Bravo, che... bravo di nome e di fatto, che mi ha detto senti un po' questo chitarrista, che ne pensi? E l'ho trovato interessantissimo dal punto di vista tecnico, anche compositivo, e era... lì è un idolo, perché nonostante abbia milioni e milioni di followers, rimane a registrare nella sua cameretta, col muro scrostato, e diciamo disinteressandosi, credo lavori addirittura in una... con un furgoncino per fare delle consegne. Cioè è diventato un idolo contro il consumismo. E quindi ha un seguito enorme, che si chiamano proprio gli Alipers, che tra parentesi io ringrazio tantissimo, perché dopo il video che ha ottenuto, pensate, in una settimana, quasi 100.000 visualizzazioni, adesso è a quasi 200.000. e tutta questa comunità indonesiana gli è piaciuto tantissimo, questo video che io ho fatto, ho riarrangiato un suo pezzo originale, perché lui è anche molto famoso per le cover, è stato anche citato da Brian May, chitarrista di Queen, per una cover straordinaria di un pezzo di Queen, però io mi sono voluto soffermare su un suo pezzo originale, che si intitola Page Black, che significa in lingua, in lingua di Java, che rispecchia la situazione pandemica che lì è stata gravissima. Certo, lì la situazione è stata molto più pesante. Quindi ecco, io ringrazio questa comunità che ci segue, infatti li voglio ringraziare perché aspetta, pensate, questo concerto, lo sa bene Gianni che è in contatto con loro, con le sue reaction, lo sa bene, aspettano questo momento, quindi io vi voglio suonare dal vivo su questo video che è diventato così. Però prima di iniziare, io volevo farti una domanda importante, perché noi ne abbiamo parlato ed è una cosa anche bella da sottolineare e da evidenziare. Dato che siamo nell'era social, 2.0, tutto così, molto social, ormai i disegnini, le cose sono diventati un linguaggio sostanzialmente, c'è molta alienazione, no? Perché spesso poi il social ti porta comunque a nasconderti, un po' anche ad alienarti. Invece il processo che tu hai voluto mettere in evidenza è che puoi utilizzare evidentemente il social per un fenomeno aggregante, come la musica, giusto? Assolutamente, io non vorrei andare contro corrente, la situazione pandemica è una cosa gravissima, però perlomeno io parlo per me, mi ha permesso di fare cose che altrimenti non avrei mai fatto. Questa può essere chiaramente nel male, per esempio io avevo questo canale YouTube ma l'avevo aperto così, giusto per aprirlo, e invece mi sono messo a fare video, eccetera, e con questo siamo arrivati a questo grande successo. Saluto quando vedranno i video, gli Alipas li saluto tanto e mi faceva piacere perché questo pezzo è diventato importante anche nel mio repertorio, diciamo così. Assolutamente, e noi adesso lo ascoltiamo. Grazie, page plug, Alipa Tata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.